Intervento in videoconferenza di Vitaly Klitschko, sindaco di Kiev, città con cui Firenze è gemellata dal 1967 durante i lavori del Consiglio Comunale di Firenze. L'intervento è stato introdotto dal Presidente del Consiglio, Luca Milani. È una testimonianza diretta, cruda e veramente toccante del sindaco di Kiev, che è nostra città gemella, è da 55 anni, per cui Firenze ha un motivo ulteriore, un motivo in più per dire no a questa guerra, per ricercare la pace ad ogni costo e con l'idea che ormai siamo tutti, l'umanità è un unico popolo e su questa, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e la guerra in Jugoslavia, pensavamo davvero che almeno in Europa si fosse arrivati a capirlo questo concetto. Firenze ha dimostrato che i semi gettati dalla pira sono ancora una pianta rigogliosa, per cui davanti a questa terribile guerra che è di nuovo piombata su tutti noi, sta dimostrando di avere le carte per giocare un ruolo internazionale, negli appelli alla pace, nella convinzione che solo attraverso la pace e la fraternità tra i popoli poi c'è davvero l'effettiva uguaglianza e l'effettiva qualità della vita. Klitschenko in divisa militare si è prima soffermato su alcune crude descrizioni della realtà di guerra. Mi sono sempre chiesto perché il conto avviene sui cadaveri, sui corpi delle persone morte. La risposta è stata molto cruda perché si tratta non di cadaveri interi ma di pezzi e di carne umana. Quindi per questo motivo oggi non contiamo il numero dei defunti ma il peso dei cadaveri. Poi ha chiesto aiuto a Firenze e all'Europa. È necessario che interrompiate gli accordi economici e commerciali con le compagnie e con le aziende russe. Infine ha concluso con una nota di orgoglio. L'Ucraina non sottoscriverà nessuna pace se dovrà cedere alla Russia parti del suo territorio. Al termine delle sue parole l'applauso e la standing ovation unanime di tutta l'aula. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Dario Nardella ha poi descritto le iniziative su cui Firenze si sta concretamente spendendo in favore del popolo ucraino. Il conto corrente che abbiamo aperto con la Croce Rossa appena tre settimane fa ha già raggiunto 100.000 euro di donazioni. Abbiamo inoltre questo aereo cargo che dovrebbe partire a breve tra qualche giorno per portare 12 tonnellate di aiuti alla popolazione ucraina passando dalla città di Leopoli che sarà un po' un hub di smistamento. E inoltre stiamo accogliendo molti rifugiati, molti dei quali arrivano da Kiev anche attraverso questo canale diretto che abbiamo stabilito con la città di Kiev. Noi abbiamo anche condiviso queste informazioni con le altre 200 città europee di EuroCities in modo da costruire una vera e propria rete di solidarietà a favore di Kiev e delle altre città ucraine, dei sindaci ucraini, molti dei quali, come sapete, purtroppo sono stati uccisi, torturati, imprigionati dall'esercito russo. Quindi la nostra iniziativa è anche un'iniziativa di supporto ai primi cittadini che sono esposti in questa difesa strenua della libertà e della vita dei loro concittadini. Ringrazio il sindaco di Kiev per questo intervento così intenso e anche drammatico perché i numeri che ci ha dato sono numeri impressionanti che lasciano senza parole.